Perché dopo una vita di università e corsi, eccetera, io tra l'altro sono una formatrice, mi rendo conto che sono andata avanti per, come si può dire, così, un po' a caso e credo che si possano ottimizzare alla grande il tempo, perché il tempo è prezioso e più cose fai in poco tempo, più puoi fare più cose, ecco. Sai, io ti faccio sorridere, ogni tanto mi sento di avere tre volte la mia età come esperienze vissuti, perché chi è d'accordo che quando hai una vita bella piena e fai tante cose, ci sembra di viverla pieno, no? Che dite? Certo, il tempo è importante. Però mi sono resa conto che più cose fai, più tendi a organizzarti, ma ci vuole metodo e lasciare le cose al caso si rischia di, appunto, non ottimizzarlo. Grazie a tutti.